Andiamo a questo punto che mi sono andato all'interno, quindi la reazione, il modo sempre deve essere pari all'aggressione, posso prendere un sparamentale per verra, quando no, per verra, quindi l'erreo deve essere fatto male, quindi fatte bene quando ha un'altra ruota, quando ha le ossa, diciamo. L'altra cosa è il pubblico, non io stasera, il pubblico, il pubblico stasera è quando arrivate a casa, non ci ha fatto, arrivate a casa da sola, stasera, cosa fate? Non serviate, pensate, cosa sto facendo prima di entrare in casa, quando arrivate a casa, prima di entrare in casa, quanto sei arrivato in un'auto, sei in un'auto, appicciate fuori, in un garage, prima di entrare in casa, forza, vado. Ok? Memorizzate come questa è, che poi dopo, alla fine, poi faremo un'auto. Vi daremo le spiegazioni che è il piano di cuore, la vostra tendenza. Va bene, dai, facciamo la scelta, poi l'ho fatto, non faccio un'auto, non faccio un'auto, non faccio un'auto, non faccio un'auto. Precente. Grazie bene. Ah, ci andiamo a risultati. Grazie.